Il marito di Simona Izzo, ossia il buon Enrico Domiassi, purtroppo è stato eliminato da Ballando con le stelle, il programma che va in onda nel weekend su Rai 1. La quarta puntata infatti si è andata a concludere con la doppia uscita di Borrio Bellino Baffi, il famoso attore che si è ritirato dal gioco. E poi l'uscita di Enrico Domiassi, l'attore in coppia con Tove Vilfor, bella bellissima ballerina, è andata fine al ballottaggio con Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi, e si è reso però il voto del pubblico che lo ha per l'appunto votato. 81% i voti raggiunti per il figlio del grande Rocco Siffredi, ossia Rocco Tano Siffredi. Insomma diciamo così che è stata una puntata importante quella di ieri 11 novembre 2023, tuttavia non è mancata la reazione di Selvaggia Lucarelli che ovviamente si è andata a, diciamo così, a pregare nel riferire il suo punto di vista, a base alla sua opinione, che magari a volte può essere considerata come un'opinione abbastanza forte, abbastanza critica, forse troppo critica. Va bene? Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, carissimi potenti di gruppo, iscrivetevi al canale, mi raccomando, commentate. Questo video non vuole vedere la bravazione di Ligia Lucarelli e della moglie, ma solo informare stop. Nasce solo per questo motivo, non per altri motivi.